Ciao a tutti! Nuovo video in cui vi consiglio delle letture, un video che ho voluto dedicare, per così dire, all'universo femminile e quindi vi presenterò tre libri consigliati di autrici che trattano di tematiche legate appunto all'essere donne o quantomeno alla sensibilità femminile, ma non per questo sono dei libri dedicati solamente alle donne anzi, è bene che siano letti da tutti perché sono tre opere assolutamente meritevoli iniziamo subito con un libro chiacchieratissimo che è Milk and Honey di Rupi Kaur Rupi Kaur è un'autrice poetessa indiana che ultimamente ha raggiunto un successo veramente formidabile con un'opera di poesie cosa particolarissima perché è raro che la poesia finisca dritta nelle classifiche dei libri è quello che è accaduto a questa autrice che ha saputo sfruttare anche la comunicazione web infatti la sua fama nasce, a quanto capito, da un profilo Instagram in cui associa disegni alle sue poesie infatti il suo libro contiene delle illustrazioni che rispecchiano la scrittura la scrittura è dedicata appunto all'universo femminile ed è suddiviso in quattro parti se non erro sono quattro, ve le dico subito comunque sono il ferire, l'amare, lo spezzare e il guarire e trattano di amore e di sofferenza dell'essere donna o quantomeno legandosi all'esperienza personale quindi il ferire, la sofferenza, la necessità di redenzione l'amore non corrisposto, la noia dell'amore sono tutte tematiche che l'autrice affronta con un piglio molto spontaneo infatti è una poesia possiamo dire contemporanea, moderna che rifugge dall'idea di musicalità o quantomeno della composizione in versi musicale ed è infatti una delle critiche che è stata rivolta all'autrice dai puristi della poesia ma è un tipo di poesia diciamo moderno dove lo spezzare delle frasi, l'andare a capo è molto spesso una ricerca di una pausa antimusicale e che rimanda molto più che alla poesia canonica al concetto di aforisma o quantomeno di idea del tentativo di gettare un'emozione su carta Rupi Kaur lavora molto con questo principio ovvero lei sente una cosa e la getta su carta o almeno è la percezione che ho avuto io da lettore a volte sono delle frasi spezzate che quindi danno bene il senso di instabilità emotiva di necessità di guardare dentro di sé dell'uso della scrittura come medicina per l'anima ma allo stesso tempo come fonte di sofferenza perché nella scrittura l'esorcismo delle emozioni una volta che viene letto riporta quelle emozioni quindi in un senso è un po' il leccarsi le ferite che però aiuta ad andare avanti ed aiuta anche i lettori in quanto è un libro che per quanto non mi abbia sconvolto è riuscito soprattutto nella creazione di immagini inedite quelle ci sono o quantomeno di intuizioni apparentemente semplici in verità molto incisive riesce proprio a creare un contatto empatico con l'autrice riesce a entrare proprio nella pelle nella carne è una lettura che consiglio che io ho trovato molto particolare ed è adatta anche a chi non sente con la poesia un legame forte in quanto vi ho detto è una sorta di corollario di pensieri ed emozioni di una persona che sente tanto le cose e che quindi io reputo molto interessante è una lettura che mi ha convinto e che vi consiglio il secondo libro di cui vi parlo è l'altra figlia di Annier No un'autrice che sta avendo un successo pazzesco grazie al suo stile di scrittura tremendamente avvincente nonostante sia etereo, lento, meditativo e nel cui tentativo di raccontarsi attraverso le esperienze personali a me ricorda molto un'autrice che io adoro alla follia che è Simone de Beauvoir io ho letto l'altra figlia come primo approccio all'autrice e ho scoperto piacermi molto è un racconto breve un romanzo breve in verità una lunga lettera che ruota attorno alla sorellanza quantomeno all'essere sorelle e al contempo non esserlo infatti la lettera che l'autrice scrive è indirizzata a una sorella morta mai conosciuta ed è un'introspezione che colpisce perché fa riferimento subito ai conflitti familiari o quantomeno all'incapacità di essere valutati per quel che si è perché c'è una sorella, un fratello in questo caso una sorella che non esiste il sentirsi colpevoli per qualcosa per cui non si hanno colpe è un libro che fa degli affetti familiari anche contraddittori un leitmotiv un fil rouge e nonostante la brevità è un testo molto intenso commovente scritto benissimo con questa scrittura in punta di piedi ma che allo stesso tempo a tratti lascia sbalorditi per la sua capacità di creare un immaginario di bellezza di nostalgia di malinconia ma dall'altra è persino angosciante l'ho trovato molto angosciante in certi punti ed è una lettura che vi consiglio assolutamente e che mi spinge sicuramente ad approfondire questa autrice così chiacchierata il terzo libro che vi consiglio invece è Fair Play di Tove Jansson non solo finlandese scusate è un'autrice finlandese edita da Iperborea famosissima in patria soprattutto come narratrice e illustratrice di libri per bambini infatti è la madre dei Moomin che è una saga per bambini molto famosa in nord Europa e negli Stati Uniti è considerata in patria un punto un punto di riferimento talmente grande che il suo compleanno il suo tantesimo compleanno è stato festeggiato per un anno intero ed è una cosa assolutamente incredibile diciamo che però la Jansson ha anche sviluppato una bibliografia per adulti in alcuni romanzi questo è il primo che leggo ma quanto ho capito è una cosa che si ripete in alcuni romanzi che si focalizzano sul quotidiano infatti questa storia tratta di donne o quantomeno di due donne che sono Mari e Giona che sono due compagne di vita se vogliamo una coppia una coppia nell'amore ma allo stesso tempo quel tipo di amore che lega due persone a stare assieme al di là dell'attrazione infatti sono due due signore anziane che convivono vivono nell'arte nell'amore nel lavoro ed è una cosa che è bellissima proprio quello stadio dell'amore in cui si è assieme e si aspettano nuove avventure anche se la vita ti porta verso l'accettazione della vecchiaia se vogliamo è un essere sempre giovani attraverso l'amore e in questo romanzo che è un romanzo particolarissimo è strano per certi aspetti perché non è un lineare non ha un inizio uno svolgimento una fine è uno di quei romanzi in cui non succede nulla ma allo stesso tempo succede tutto ed è suddiviso in brevi spiragli di esistenza di queste due donne artiste perché una è un'illustratrice e l'altra è una regista e della loro vita assieme dei viaggi che fanno della loro esistenza in casa delle conoscenze che fanno con amici sconosciuti parenti ed è appunto composto da spiragli e quindi frammenti racconti brevi chiamateli come volete di esistenza quotidiana e nonostante sia per certi versi strano leggere un libro del genere perché non ti sta raccontando nulla allo stesso tempo ti lascia subito la suggestione di un'esistenza vissuta pieno nelle piccole cose che non sono le hashtag piccole cose naturalmente è un libro dove il quotidiano viene raccontato con una delicatezza veramente incredibile e che in un certo senso è molto interessante tant'è che ci sono anche dei passaggi in cui addirittura si lascia intendere come la necessità della solitudine per certi aspetti debba essere una parte primaria dell'amarsi e dell'amare che è una cosa non scontata che viene affrontata poco dagli scrittori che parlano d'amore ed è un libro in cui per quanto ci sia del quotidiano ci sono degli accenni umoristici che in un certo verso mi hanno ricordato quel tipo di umorismo nordico che è perso trazione quindi anziché puntare sulla battuta puntano su degli accenni di surrealismo se vogliamo di surrealtà lasciandoci intendere come la vita per quanto possa sembrare banale e noiosa la vita reale dico è piena in verità di non senso ed è una lettura che trovo molto particolare consigliata soprattutto a chi ha la necessità o sente la necessità di conoscere qualcosa di diverso dal solito e che vi consiglio caldamente fatemi sapere se conoscevate già queste tre autrici se avete letto qualche loro libro vi sono piaciuti non vi sono piaciuti li leggereste non li leggereste fatemelo sapere io vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video ciao ciao